Viaggio antico e avventuroso, duro e complesso. Questo è la transumanza. Per giorni e giorni le mandrie vengono spostate dai pascoli invernali di pianura ai pascoli estivi di montagna e al cambio di stagione si tornerà indietro. La mandria di Maglio Fani è composta da 140 cavalle brade e puletri, tutti di razza maremmana laziale, accompagnati dal loro stallone. Ormai da più di 14 anni in inverno e in estate, transumano verso pascoli più erbosi. Il cammino passa per numerosi paesi, attraversa boschi, tratturi, strade bianche, discese e salite vertiginose. La campanara, cavalla tenuta a cavezza da un cavaliere, scandisce il ritmo del cammino a tutta la mandria che le viene dietro. Sono tante le situazioni da affrontare durante il viaggio. Bisogna guadare un fiume e aiutare i puledri a trovare un punto più basso dove farlo. Bisogna cambiare o rinforzare gli zoccoli a qualche cavallo. Ci si ferma spesso per far pascolare la mandria quando si incontra un prato erboso. E poi si va avanti, nonostante il caldo, la pioggia o la neve, in un cammino autentico, che va al di là del tempo, che raccoglie in sé la tradizione, l'ambiente, il rispetto della natura, l'amore per gli animali e per la loro ed anche un po' nostra libertà. Grazie a tutti! Grazie a tutti!